Giuseppe Cesari, detto il Cavaliere d'Arpino, nacque appunto ad Arpino il 14 febbraio del 1568 e morì a Roma il 3 luglio del 1640. Fu pittore dell'epoca barocca, che venne definito dai conservatori dell'urbe pictor unicus rarus et excellence ac primarius et reputatus. Tipico esponente del gusto tardo-manerista, il Cesari è stato molto attivo in imprese decorative a Napoli e a Roma, dove si occupò anche di formare giovani pittori poi divenuti celebri, quali Guidoreni e Caravaggio. Giuseppe Cesari, come detto, nacque nel febbraio 1568 ad Arpino, nell'odierna provincia di Frosinone, che allora apparteneva al regno di Napoli. da Muzio di Polidoro, pintore d'Arpino, che con maniera assai grossa dipingeva Devoti, e di Giovanna Van Mander, appartenente ad una famiglia nobile spagnola. Venne introdotto all'esercizio della pittura in seguito al trasferimento nel 1582 a Roma, dove lavorò alla decorazione delle loggie vaticane, e divenne noto come Giuseppino. Intervenne anche nella sala vecchia degli Svizzeri, dove realizzò una figura iperbolica di Sansone a monocromo e nella sala dei Chiaroscuri. Fu nell'ambito artistico vaticano, in ogni caso, che il giovane Cesari, non ancora cavaliere, si fece notare per la sua creatività. Nel 1589 Cesari si trasferì momentaneamente a Napoli, dove fu incaricato della decorazione del Sancta Sanctorum della Certosa di San Martino. Gli affreschi lasciati inizialmente incompiuti vennero poi terminati dal fratello. Con l'avvento al pontificato di Clemente VIII a Dobrandini, il Cesari poté finalmente consacrare la propria affermazione professionale, divenendo uno dei pittori più conosciuti e richiesti a Roma, specialmente per le grandi imprese decorative. La posizione economica e sociale del Cesari si era ormai ampiamente consolidata e quindi egli poté finalmente acquistare un palazzo a Via del Corso, oltre a farsi costruire una propria residenza nell'arpino Natia, tuttora parzialmente esistente. Tra i clienti del Cesari, oltre alla ricca aristocrazia capitolina, vi erano anche l'imperatore Rodolfo II e il re di Spagna e di Francia. Alla morte di Papa Clemente VIII, tuttavia, il cavaliere d'arpino subì una momentanea eclissi, finendo addirittura in prigione per il possesso illecito di armi. In realtà, possedeva una raffinata collezione di archiburgi e, secondo alcuni, l'accusa si rivelò un pretesto, forse architettato dal cardinale Scipione Caffarelli Borghese, nipote prediletto di Papa Paolo V, per entrare in possesso dell'importante collezione di quadri del Cesari. Il processo finì nel 1607, appunto, con la donazione, ma più che altro fu una confisca, della sua quadreria alla Camera Apostolica. Molte di quelle opere sarebbero poi finite nella villa del cardinale Nipote e tutt'oggi è parte della Galleria Borghese. Poi il cavaliere d'arpino trascorse gli ultimi anni della sua esistenza nella sua dimora a Via dei Serpenti, acquistata nel 1636. Morì, infine, il 3 luglio 1640 e la salma venne dapprima deposta provvisoriamente in una semplice tomba nella navata di Santa Maria in Araceli, la cui collocazione può essere desunta dall'esame delle fonti, per essere poi trasferita in San Giovanni in Laterano, forse grazie all'aiuto dei Barberini, in un dignitoso monumento in marmi policromi, dagli haichi borrominiani e con un busto di Niccolò Minghini, realizzato post-mortem, forse sulla base di precedenti ritratti e completato dallo scudo araldico richiamante il soprannome dell'artista e da un epitaffio encomiastico.